Il mio nome è Linda, vivo in Dorset, in England. Mi chiamo Didier, vivo a Grasse, nelle Alpe Marittime, in Francia. Sono Cristina, di Roma. Ho avuto un Nissan Juke Tecna per 7 mesi. Sono proprietario di un Juke, da giugno 2014. Ho una Juke Tecna da 5 mesi. Io cercavo una macchina alta, per avere un ottimo visuale e compatta, quindi facilmente maneggevole. E la Juke ha soddisfatto queste mie necessità. Con la Juke mi trovo molto bene a guidare. Con la ruota, il confort di conduzione è evidente. Sono sul motore, ho avuto un po' più di torque. Quando sto cercando di prendere qualcosa, è molto più forte. Abbiamo un po' di autoroute e abbiamo delle montagne, quindi voglio un po' di rispondenza sulle montagne. La Juke propone 3 modi di motorizzazione, il modo Eco, il modo normale e il modo Sport. La versione Sport ed è stato molto contento, perché la Juke è andata veloce, ha risposto molto bene. Per me lo uso per migliorare il mio mood. Se non voglio andare a lavorare un giorno, lo metterò in Eco, e poi andrò un po' più lentamente, ma avrò molti più chilometri. E il fatto di avere una macchina tecnologica quando guidi è confortevole e anche molto simpatico. Intelligent Key è stata un'idea bellissima, secondo me, anche perché una volta che ce l'hai nella borsa è come se la macchina mi riconoscesse. Mi piace il fatto che mi può decidere se volerci a un paese dove in quel paese il paese, e poi lo scoglie sul mio laptop e poi lo sende a mio auto. E poi, quando mi arriva in un'auto, c'è una macchina. E questo per me è incredibile. Siamo molto assi perché abbiamo un siège che si legge a alto. Mi sento che perché sono più alto, sono più sicuro. Posso vedere che è davvero in fronte, che è davvero in fronte di me. Posso vedere che è davvero in fronte. La tecnologia embarcata è particolarmente performante e permette di essere in tutta sicurezza nel veicolo, soprattutto con le deteczioni delle linee blanche. Con le luci che si accendono se qualcuno ti sorpassa, quindi sei in anticipo che qualcuno ti sta sorpassando. Mi sento che ho un set extra di occhi che mi guarda, che è quello che mi piace, mi sento sicuro. Quando mi guarda, non mi turno più, io lo faccio solo con la camera. Mi sento molto divertente. E' un'istenzione di me.